So my question is, should we believe in that, that like the qualities of vegetarianism, non-alcoholism, celibacy, practice them so that we make our body fit, so that the career of 11 minutes will be more effective. Vedi, questo è ciò che ho sempre detto, perché persino mangiare è un valore morale. Il cibo riguarda il corpo, dobbiamo mangiare ciò che è adatto per questo corpo. Ma adesso tu stai parlando di fare del cibo un'abitudine. Voglio dirti che non esistono abitudini buone o abitudini cattive. Abitudine significa che stai funzionando inconsapevolmente ed è un male, perché il punto dell'essere umani sta tutto nel fatto che siamo capaci di fare le cose consapevolmente. Questa è la bellezza di essere umani, che possiamo fare tutto consapevolmente. Quello che un animale fa inconsapevolmente, noi possiamo fare la stessa cosa consapevolmente. Possiamo mangiare inconsapevolmente o possiamo mangiare consapevolmente. Possiamo respirare inconsapevolmente o possiamo respirare consapevolmente. Nel momento in cui facciamo qualcosa consapevolmente, subito quell'essere umano ha un aspetto raffinato e meraviglioso. Solo perché qualcuno cammina e parla consapevolmente non diventa un bellissimo essere umano. Sì o no? Allora perché stiamo cercando di sviluppare abitudini come se fosse una cosa positiva? Abitudini significa realtà prefissate in cui non devi pensare. No, non cercare di automatizzare la tua vita. Questa non è efficienza. Questa è l'efficienza di una macchina. Questo dovrebbe funzionare intelligentemente e consapevolmente. Nessuno si aspetta che funzioni come una macchina. Quindi, riguardo al cibo, il cibo deve essere adatto al corpo per il quale mangiamo. È per il corpo. È il materiale di costruzione per questo corpo, il cibo che stai mangiando. Qual è il cibo appropriato? Sfortunatamente in questi giorni è tutto confuso. Tradizionalmente mangiavamo in modo molto sensato in questo paese, ma questi mille anni di invasioni hanno portato altri tipi di culture alimentari e oggi la dieta nazionale è pizza o pasta. Quale delle due? Non lo so. Sono entrambi in competizione. Quindi stiamo perdendo il nostro senso riguardo al cibo. È decisamente il momento di valutare quale sia la cosa più adatta. Se entro nello specifico sul cibo è un processo molto lungo, ma devi fare esperimenti con il cibo, non solo per il gusto, ma per il corpo. Oggi mangi qualcosa, stai a guardare. Semplicemente impara a osservare quanto il tuo corpo è agile e attivo dopo aver mangiato quel cibo. Se si sente come se volesse andare nella tomba, quello non è buon cibo. Se ti sembra che voglia essere vivo dopo aver mangiato quel cibo, a eccezione del caffè perché è uno stimolante, se mangi qualcosa e il tuo corpo si sente molto agile e vivo, questo significa che è buon cibo, al corpo piace. Se mangi qualcosa e si sente pesante, significa che non gli piace. Quindi, semplicemente su questa base, voglio dire, questo è un modo molto semplicistico di porre la questione.